Io mi sono specializzato in medicina interna nel 2014, però poi dopo la specializzazione ho sempre lavorato soltanto in emergenza. Marafini del pronto soccorso, ho una signora con una frottura di femmina da ricoverarvi, posso mandarla? Perché mi piaceva, perché era un lavoro veramente fico, era un lavoro che mi appassionava. È un lavoro che è stressante di per sé, però diciamo che nel corso degli anni sta diventando sempre più massacrante. È abbastanza comune che capiti in un turno di notte di vedere più di 50 pazienti, per ciascun medico. Ma se lo ricorda quello che è successo? Era in bicicletta? Era in bicicletta. C'è che lui non si è accorto di niente perché già aveva il sole negli occhi. L'automobilista non si è accorto di nulla? Non te lo so dire. Vabbè, non se lo ricorda più. C'è la possibilità che dobbiamo trasferirla al Livorno per questa emorragia che ha in testa. C'è un'emorragia? Sì. Una fetta importante di pazienti non dovrebbero venire da noi, sono pazienti che hanno problematiche abbastanza banali di cui quindi si dovrebbe occupare la medicina del territorio. Mi girava la testa, mi girava la testa e sono sceso giù. Ma l'era successo altre volte o mai? No, la prima volta. La prima volta. Un'altra grossa parte dell'assistenza sono i pazienti cronici, magari anziani, quindi poi di fatto di emergenza vera ne facciamo poca. Che è successo? Ui. Mi guardi un attimo. Guardami un attimo. L'hanno trovata che si prostituisce in giro. L'hanno portato a Carabinieri trovata per strada senza, non capisco se è completamente nuda o snuda sotto. Io ho provato a fare due chiacchiere ma non mi risponde. E niente, ora risento un attimo di là che farne perché boh. Sicuramente mi sento compresso. Ma io tra dieci anni voglio ancora vivere così? E io ho detto proprio no. Posso? Lascio, lascio, lascio. Va bene, va bene, tranquillo. Mi sono licenziato e quindi terminerò il mio rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria a metà dicembre di quest'anno. Una delle cose che ando a fare sarà comunque fare il medico di emergenza urgenza da libero professionista. Oggi volgarmente si chiama il gettonista. Un turno da gettonista può essere retribuito quindi tra le 600 e le 1200 euro l'orde. Da dipendente sto su un netto di tra i 2.800 e i 3.000 al mese. Da libero professionista decido quando lavoro, quanto e guadagno meglio. Sto alla rotonda tra la laurea e la dieta italica quindi faccio presto, arrivo e addormento. La questione economica è importante ma è la meno importante in realtà. Le questioni più importanti sono il tempo e la qualità del lavoro. Il fatto di avere mia figlia è stato veramente un grande acceleratore per fare questa scelta. Per me individualmente questa è una grande opportunità ma pensandolo da cittadino è un disastro. Io perdo uno dei miei migliori medici, tu lo sai. Rimarremo in 12 invece che 29, quale sarebbe l'organico? Il rischio vero è che la sanità pubblica spenda più soldi per le stesse risorse. Ho dato al Servizio Sanitario Nazionale tutto me stesso per 13 anni. Non mi sento in colpa.